Giacomo, oggi arrivano tre punti che dovevano per forza arrivare, una vittoria comunque trovata bene nella ripresa nonostante un inizio, forse con un po' di tensione, infatti il 20 mila ne aveva approfittato poi quel gol di Stagnaro a fine primo tempo e quelle due reti in avvio sono state fondamentali e poi i minuti restanti sono stati un po' di gestione e amministrazione della gara Sì, come hai detto tu abbiamo avuto un primo inizio un po' critico, poi piano piano ci siamo ripresi e si è riusciti a trovare l'1-1 subito poco prima della fine del primo tempo che ci ha aiutato comunque a entrare il secondo tempo con un'altra testa e sono stati tre punti fondamentali che ci servono moltissimo questi Ecco, ora un'ultima sfida a Loano, di sicuro non vi verrà stesso tappeto rosso come anche dicevamo con Stagnaro soltanto che bisognava cercare almeno di pareggiare e cercare anche i tre punti sarebbe fondamentale anche se comunque al momento la salvezza ci sarebbe Sì, al momento sì, ovviamente sarà una partita difficilissima perché loro sono una grande squadra e come hai detto tu non ci lasceranno via libera però cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo perché fino ad adesso ci siamo impegnati parecchio e vogliamo arrivare fino in fondo Grazie a tutti Grazie a tutti